Benvenuti su ClaudioMasci.com In questo video voglio farvi vedere una funzione molto utile dell'app del traduttore di Google che ci permette di tradurre in tempo reale una conversazione La funzione più conosciuta di quest'app ovviamente è quella che io vado, apro l'app, inserisco un testo e mi traduce questo testo in un'altra lingua Generalmente viene conosciuta solamente o principalmente per questo ma in realtà non è l'unica funzione che ha La funzione conversazione è davvero molto utile perché capita ad esempio di trovarsi a parlare con una persona che non parla la nostra lingua e quindi di non riuscire a capire quella persona o comunque noi a farci capire quindi magari andiamo all'estero, ci troviamo in un paese di cui non sappiamo bene la lingua e non riusciamo a farci capire Utilizzando quest'app invece abbiamo la possibilità di farci capire facilmente dalle altre persone Allora, registrando il video da telefono non riesco a registrare l'audio quindi farò un video esterno per farvi vedere come funziona l'app conversazione Per il momento dall'interno vi faccio vedere che toccando la voce conversazione mi apre la schermata nella quale io posso impostare le due lingue quindi ad esempio posso impostare la lingua mia, quindi la lingua in cui parlo io, italiano e la lingua che voglio andare ad utilizzare, quindi in questo caso ho lasciato inglese che è l'impostazione predefinita quindi in questo modo io posso avere una conversazione con qualcuno che parla in inglese facilmente anche se io non dovessi conoscere l'inglese Sono passato alla fotocamera... ok, sta registrando... ok Sono passato alla fotocamera di un altro smartphone, in questo modo posso farvi vedere come funziona l'app e abbiamo quindi come detto i due tasti in basso per le due lingue a sinistra quindi la lingua, la prima lingua, quindi diciamo generalmente la nostra e a destra la lingua nella quale vogliamo andare a tradurre ci basterà toccare l'icona della lingua da cui vogliamo tradurre quindi la lingua della persona che sta andando a parlare quindi ad esempio io andrò a toccare il tasto per parlare in italiano e da questo momento qualsiasi cosa andrò a dire verrà registrata e tradotta in inglese Ok, non lo ha preso Proviamo ora Ok Quindi da questo momento qualsiasi cosa andrò a dire verrà registrata e tradotta in inglese A questo punto quindi l'altra persona avrà capito quello che gli abbiamo detto e se vuole potrà quindi rispondere noi andremo a toccare l'icona per permettere alla persona di parlare in inglese e di tradurre quello che sta dicendo Ok, in questo modo possiamo vedere che se non sappiamo bene una lingua noi possiamo parlare tranquillamente nella nostra lingua e quest'app ci farà da interprete quindi praticamente ognuno parlerà nella sua lingua e l'altra persona sentirà la traduzione nella propria lingua Diciamo che in questo modo è davvero molto semplice riuscire a dialogare anche con chi non parla la nostra lingua o comunque non la parla abbastanza bene da avere una conversazione Ovviamente abbiamo a disposizione diverse lingue tra cui scegliere quindi possiamo tradurre in tantissime lingue alcune purtroppo ancora non sono disponibili le vediamo in grigio però tutte quelle in nero sono funzionanti quindi possiamo avere una conversazione davvero in tantissimi luoghi quindi in tantissime lingue e in questo modo possiamo facilmente farci capire quando siamo all'estero o comunque quando una persona non parla la nostra lingua magari ci chiede un'informazione dobbiamo chiedere noi un'informazione possiamo tranquillamente riuscire a dialogare e farci capire da una persona Questo è tutto per quanto riguarda questo video spero che sia stato di vostro interesse per qualsiasi domanda, suggerimento, dubbio come sempre scrivetemelo nei commenti vi ringrazio per aver seguito questo video ci vediamo al prossimo